Tutto quello che ci diremmo non dovrà uscire da qui. Dominando tutti gli elementi, il fuoco e il calore si rimastrano. E l'acqua ripartite fredda e calda. Questo paese ha speso centinaia di milioni di euro l'anno scorso per l'assistenza delle persone che non hanno il diritto di vivere in Italia. Milioni di euro. Cento milioni sono stati spesi per tenere in cella quella massa di porci criminali. E questo non è neanche più il mio di quartiere. È un cazzo di campo di battaglia. Noi non ce ne staremo fermi, zitti messi da parte ad aspettare il primo che arrivi a stuprare la nostra patria. Non c'era altra persona che potesse farlo. So che sta soffrendo la grande perdita. Sua sorella, Clemen, sa già della morte della bambina che avete concepito insieme. Abbasca il tono. Di che cosa ha paura? L'angustia venga a sapere che lei è suo nonno, suo padre e sarà suo marito. Grazie. Grazie. Grazie.